strage di corinaldo le testimonianze di sfera e fedez palazzo delle marche omaggio alla memoria di carlo bo ad aprile torna lo screening senologico gratuito dalle foglia accelerata per il nuovo teatro basket day a rossini tv non pone limiti alla sua vl buona serata un buon inizio di weekend a tutti voi amici amici di rossini tv questa è rossini news questo è il telegiornale del canale 80 che in questa edizione di venerdì 24 marzo apriamo con una notizia che arriva da ancona dove oggi al palazzo di giustizia dorico si è tenuto un altro capitolo processuale relativo alla strage della lanterna azzurra discoteca di corinaldo dove ricorderete nel dicembre 2018 morirono 5 minorenni e una mamma di 39 anni oggi in aula sono stati ascoltati i noti rapper fedez e sfera e basta in merito al filone d'inchiesta relativo alla responsabilità del locale questa mattina il tribunale di ancona è andato in scena un altro capitolo processuale riferito alla strage della lanterna azzurra di corinaldo dove la notte fra il 7 e l'8 dicembre 2018 morirono 5 minorenni e una mamma di 39 anni dopo le condanne della banda dello spray che generò la calca letale oggi sono arrivati in aula i noti rapper sfera e basta e fedez nel filone d'inchiesta sulle responsabilità strutturali del locale di corinaldo sfera si esibì la notte della tragedia fedez calcò lo stesso palco anni prima i due artisti sono entrati usciti dall'ingresso secondario del palazzo di giustizia totalmente nascosti a macchine fotografiche videocamere jonata boschetti in arte sfera e basta in aula ha ricordato che quella sera non si riusciva a respirare che la gente ha cominciato ad agitarsi si sono accese le luce e aperte le porte per il deflusso sfera ha riferito però di essere andato nel backstage non vedendo le dinamiche dell'uscita federico lucia in arte fedez ha detto invece di non ricordare i dettagli delle sue esibizioni a corinaldo datate 2015 2016 ma ha supposto che alla lanterna azzurra si siano create le condizioni di più complicata gestione un artista dal cascio alto biglietti a prezzo contenuto e un locale dalla capienza limitata secondo fedez era impossibile prevedere una tragedia era però scontato sforare la capienza e trovarsi a gestire un sovraffollamento problematico restiamo ad ancona ma lo facciamo per un argomento di tutt'altro genere strettamente legato alla città di urbino oggi infatti una porzione del palazzo della regione marche è stato infatti dedicato alla memoria di carlo boh un nome che ha reso urbino una stella polare nazionale nella formazione accademica riteniamo che carlo boh sia un segno indelebile di quello che sono state le marche il carattere dei marchigiani lo sforzo che i marchigiani fanno per il proprio lavoro la propria vocazione la propria capacità in qualche modo di crescere attraverso le arti e la cultura e in questo senso costituisce anche in qualche modo in maniera appunto indelebile un esempio per il futuro su cui noi dobbiamo costruire una nostra identità culturale ben chiara da sempre boh ha trasmesso a docenti e gli studenti dell'università di urbino una visione che è rivolta al futuro l'importanza della formazione del rapporto dei docenti con gli studenti il rapporto degli studenti col territorio in particolare con la città di urbino sono sempre stati considerati e e valorizzati da carlo boh come un elemento capace di attrarre nel corso degli anni un numero sempre più elevato di studenti devo dire che ha lasciato un segno indelebile a questa università di ventura diventata sempre più conosciuta e famosa grazie appunto anche la figura di carlo boh ma soprattutto una figura che ha sempre pensato ritenuto che anche le persone che avevano anche difficoltà economica avrebbero dovuto studiare ed è per questo che sono stati creati tantissimi posti letto con i collegi una delle università che ha più posti letto rispetto agli iscritti e questo è stato veramente un segnale di voler consentire a tutti la possibilità di poter studiare modestamente ho fatto due tesi di laurea con lui perché la prima volta mi sono laureata in francese letteratura e lingua con lui e poi pedagogia con indirizzo psicologico e ho fatto un'altra tesi in francese una persona magnifica come magnifico rettore capiamo argomento e parliamo di salute marzo infatti il mese dedicato alla prevenzione al tumore al seno un mese che ha visto diverse campagne di sensibilizzazione dell'associazione noi come prima e anche un forte impegno sulla prevenzione da parte della politica si sta per chiudere marzo mese della prevenzione al tumore al seno un mese trascorso a formare informare confrontarsi su come convivere con le varie fasi prima durante e dopo la malattia va in questa direzione l'impegno trentennale dell'associazione pesarese noi come prima che lunedì archiviera marzo con una rassegna di film dedicati ospitati dal cinema solaris che corrono di pari passo ad azioni concrete di prevenzione sostenute da parte del consiglio regionale che si concretizzeranno nel mese di aprile mi fa piacere valorizzare questa piccola ma preziosissima iniziativa dell'associazione noi come prima e del cinema solaris perché è un'occasione in più per far conoscere la loro attività ma anche per far capire quanto è importante prevenire da parte mia da due anni a questa parte ho presentato in consiglio regionale numerosi atti e finalmente siamo arrivati al punto in cui dovrebbe riprendere lo screening senologico gratuito per tutte le donne dai 45 anni ai 74 anni voglio ricordare che le chiamate erano ancora ferme bloccate dal 2019 ed è stato necessario insistere parecchio in consiglio regionale abbiamo poi approvato all'unanimità un atto che prevede l'estensione della fascia di età di donne che ha diritto gratuitamente alla chiamata del servizio sanitario pubblico per la mammografia secondo ciò che abbiamo approvato in consiglio si deve partire dai 40 anni di età e dopo diverse richieste mi è stato comunque garantito che si partirà solo per adesso dai 45 anni ma le chiamate dovrebbero iniziare dal primo di aprile spero che questa volta la promessa sia mantenuta ad aprile saranno chiamate per il test tutte le donne della regione Marche dai 45 anni ai 70 e poi da settembre in poi dai 70 ai 74 anni noi ci siamo impegnati tantissimo in consiglio regionale con atti approvati all'unanimità e ora spero che la regione dia seguito a quanto disposto per ora invito tutti a partecipare a questa serata di campagna di promozione lunedì sera al cinema solaris a pesaro con un film molto toccante che ha come protagonista penelope cruz proprio una donna che in questo film rappresenta una delle persone che hanno vissuto sulla propria pelle cosa significa un tumore alla mammella ma sarà anche l'occasione per una piccola raccolta fondi con la vendita di oggetti borse e magliette realizzati da noi come prima un'associazione che nasce oltre 30 anni fa da un appunto che ha subito avuto il tumore al seno e si era ritrovata da sola e poi ha detto non c'è nessuno che segue queste persone una volta uscite dalle terapie o anche fuori per spiegare per dare un sostegno morale e lei aveva pensato da quella volta appunto di formare questa associazione noi ci incontriamo spesso il mercoledì abbiamo la nostra sede a Soria e facciamo tante attività tra cui anche solamente parlare accogliere le nuove arrivate e condividere le nostre storie perché tutti abbiamo avuto la nostra storia di tumore al seno tutte diverse ma alla fine ci ritroviamo tutte insieme in condividere gli stessi passaggi della malattia e quindi ci capiamo anche anche solo con lo sguardo alle volte senza parlare poi fra le varie attività quest'anno abbiamo un'associata che è un amante dei cinema ha visto tantissimi film ha scelto tre film insieme al cinema Solaris che ci ha ospitato è stato veramente molto gentile abbiamo fatto una rassegna di tre film tra cui lunedì prossimo il 27 ci sarà l'ultimo film in rassegna e rimanendo su un tema correlato a quello delle servizio appena andato in onda proprio ieri la regione Marche ha presentato il piano di iniziative rivolto al reinserimento lavorativo di 145 donne ex pazienti oncologiche colpite da carcinoma mammario l'assessore regionale stefano guzzi ha rendi contato questi progetti finanziati dal por marche fse con una dotazione di risorse pari a 750 mila euro progetti che hanno previsto la realizzazione sia di azioni di orientamento sia di azioni di politiche attive del lavoro attraverso l'attivazione di borse lavoro per donne disoccupate ora invece ci spostiamo a valle foglia dove sta prendendo forma la costruzione del nuovo teatro in località bottega frutto di un investimento da un milione e 600 mila euro il nuovo teatro giovanni santi di bottega sta prendendo forma una volta completate fondamente tubature in poche settimane sono stati terminati i lavori di montaggio della struttura in prefabbricato 336 posti circa un milione e 600 mila euro di investimento per un edificio innovativo e multitasking vista la vastità di offerta che presenta cinema teatro e auditorium per la musica in un unico luogo di coesione per le scuole del territorio e i cittadini della vallata del foglia mi pare che siamo a buon punto se tutto fila liscio diciamo entro l'estate il periodo in cui si potrebbe inaugurare il nuovo teatro teatro giovanni santi 336 posti un teatro per la prima volta nella storia della vallata del foglia da macerata feltri a pesero non c'era un teatro quindi sarà il teatro di questi oltre 50 mila abitanti che risiedono in 4 o 5 comuni qui del dei dintorni con noi confinanti e sarà soprattutto rivolta ai giovani la tempistica mi pare che verso diciamo fine aprile maggio dovremmo avere i tempi per le tecnologie per diciamo l'arrede interno l'insonorizzazione insomma però ecco credo prima dell'estate dovremmo avere diciamo la struttura pronta per essere inaugurata attorno alla nuova struttura sorgerà anche una nuova area parcheggi che una volta ultimata conterà circa 50 posti auto sport come sinonimo di salute e di solidarietà va in questa direzione la prima edizione della camminata in favore dell'associazione italiana sclerosi multipla organizzata per domenica sul parco san bartolo dal negozio pesarese active outdoor la finalità della solidale trek è quella ovviamente di curare la solidarietà tanto è vero che l'evento è svolto in collaborazione con l'aism con l'associazione italiana sclerosi multipla e con l'associazione pallorotonda e l'altro obiettivo è quello naturalmente di far conoscere il territorio il nostro splendido territorio il parco san bartolo e il terzo obiettivo è quello della salute quindi mensana incorpore sano curare sia l'aspetto diciamo della salute fisica che l'aspetto della salute psichica psicologica e dunque la camminata è molto semplice un trekking adatto a tutti si svolgerà partendo dal negozio active outdoor si percorrerà una parte del diciamo del percorso sul sul parco san bartolo e poi si ritornerà in negozio dove verrà offerto un piccolo aperitivo a tutti i partecipanti la partecipazione è esclusivamente a titolo gratuito quindi tutti potete venire tranquillamente non ci sono obblighi di iscrizione o quant'altro e sono previsti dei gadget degli omaggi da parte dei nostri sponsor e niente vi aspettiamo naturalmente numerosi a questo evento il solid al trek nasce da un passo proprio come ogni cammino che piano piano prende forma l'intento è quello di portare in luce qualcosa che è invisibile qualcosa di sensibile che solitamente si fa fatica ad esternare a parole e questo è un aiuto il cammino da fare insieme è qualcosa da donare al prossimo che in difficoltà che ogni giorno si sveglia con delle difficoltà degli sforzi vi ricordo che l'evento è a donazione libera e mira soprattutto la sensibilizzazione la camminata vuole essere una carezza al cuore di coloro che soffrono vuole essere presenza integrazione e soprattutto speranza per i passi nella ricerca vi aspettiamo numerosi la vostra presenza è un dono prezioso e nella stessa domenica del solid al trek ci sarà anche un appuntamento dedicato al compianto giovanni ranocchi indimenticato imprenditore della provincia di pesaro urbino che a tre anni di distanza dalla sua scomparsa sarà commemorato proprio domenica 26 marzo da una camminata ludico motoria che partirà alle 9 30 dal relè villa matarazzo per percorrere sei chilometri fino al castello di gradara un primo memoria al giovanni ranocchi organizzato da marotta mondolfo ran per ricordare il leader di team system e gruppo ranocchi in un appuntamento a partecipazione gratuita con offerta libera che sarà devoluta in beneficenza a insuperabili nella settimana in cui ricorre la giornata mondiale della poesia gradara celebra il dante di domani sabato 25 marzo data ufficialmente dedicata al sommo poeta per l'occasione alla rocca i visitatori potranno godere di un insolito percorso alla scoperta delle arti e delle attività artigianali nel medioevo un'esperienza che consentirà di immergersi nel periodo di dante con uno sguardo particolare sulle abilità e i saperi femminili nel pomeriggio di domenica 26 marzo si terrà invece il micro festival di poesia chi non vive di poesia muore di noia una resegna che alle 18 proporrà lo spettacolo conosco un posto nel mio cuore melodie ballate storie di donne in canto poetico di e con alessandro giardina e paolo pagnini accordi e ricordi di davide pagnini e a pochi giorni dal 21 marzo giornata in memoria delle vittime di mafia questa mattina il liceo marconi di pesaro ha accolto il coraggio delle donne nella lotta alla mafia nell'incontro organizzato da provincia e associazione libera il liceo ha ospitato le testimonianze di gabriella carfora e flavia famà donne con i familiari assassinati dalla criminalità organizzata e accomunate dall'impegno rivolto verso la sensibilizzazione sul tema toccante anche la testimonianza del prefetto emanuela saveria greco il cui zio un imprenditore calabrese fu appunto ucciso dall'andrangheta e le immagini che invece vi mostriamo ora arrivano dal monastero di fonte avellana dove oggi si è tenuto il primo incontro extraurbano di pesaro 2024 che da inizio anno dedica ogni 24 del mese ad una tappa d'avvicinamento all'anno di pesaro capitale della cultura oggi sindaco e vicesindaco matteo ricci e daniele vimini si sono confrontati con ludovico caverni e alberto alessandri sindaci di serra sant'amboglio e di cagli nonché vertici della comunità montana di catria e nerone è stato dunque allestito un tavolo tecnico votato al connubio fra cultura natura e la spiritualità di un luogo come fonte avellana all'interno del programma di pesaro 2024 ed ora parliamo di sport domenica infatti la vl sarà a bologna per un altro capitolo della eterna sfida con la virtus questo è stato uno degli argomenti trattati ieri sera dalla seguitissima puntata di insieme a canestro che aveva un ospite d'eccezione come austin day vediamo i contenuti trattati con l'ultimo acquisto della vl tornato a pesaro a distanza di sette anni dopo la vittoria terapeutica con brescia la vl domenica alle 19 è attesa nella tana della capolista virtus bologna in quel palazzetto in cui la squadra pesarese non vince dal lontano 2008 e chissà che l'amuleto austin day non funzioni anche a casa delle vunere questo uno dei tanti temi sviscerati giovedì sera dal ritrovato austin che è stato ospite degli studi di rossini tv nel consueto appuntamento in diretta di insieme a canestro condotto da marco cadedu è una trasferta vicina e invito i tifosi a seguirci portando il loro calore è un'esperienza che non vedo l'ora di tornare a vivere perché so cosa significhi giocare partite del genere e so cosa significhi affrontare giocatori come teodosic o akhet dunque chi può venga sostenerci dal vivo bologna e pesaro sono due realtà che hanno fatto la storia di questo campionato e sarà una bella emozione giocare contro la virtus sicuramente domenica proveremo a dare tutto quello che abbiamo per dire la nostra e regalarci delle belle soddisfazioni mettendo al bando ogni diplomazia oscar amanzia di rito ad insieme a canestro austin ha inondato di fiducia a questo finale di stagione per la carpegna prosciutto basket prima di chiudere spazio i pronostici tutte due campionato eurolega nba cominciamo con austin campionato no no ok la vl e vincere lo scudetto per per ostin nei playoff c'è la possibilità di vincere per tutti soprattutto per chi ci crede davvero e quindi io credo che arrivando ai playoff possiamo crescere ulteriormente come livello delle prestazioni e dire la nostra tutta una questione di fiducia e di sensazioni e quindi se non hai quella fiducia giusta per approcciare le partite dei playoff è inutile sperare di vincerle invece con la confidenza giusta puoi riuscirci possiamo lottare per il campionato perché tutte le volte che sono arrivato ai playoff me la sono giocata fino alla fine il presente dice attenzione massima fra finale di campionato e conquista della post season poi si potrà ragionare su un'eventuale permanenza alla vl anche nel 2023 2024 mancano sette partite alla fine concentriamoci su quelle perché dobbiamo andare ai playoff e andarci per dire la nostra poi per l'anno prossimo vedremo di sicuro non mancano i motivi affettivi per pensare di vedere ancora dei in bianco rosso pesaro una città che è parte di me e della storia della mia famiglia sicuramente mi piacerebbe molto alla fine della mia carriera fermarmi a vivere qui non solo vl questa settimana il basket pesarese ha registrato anche un salto di categoria materializzato con grande anticipo parliamo dell'ital service loreto basket quest'anno massicciamente rafforzata dall'ingresso in società di lorenzo pizza come main sponsor obiettivo raggiunto con sette partite d'anticipo la squadra pesarese dell'ital service loreto basket è tra le prime sei della serie c silver e ha guadagnato il pass per la prossima e nuova serie c unica la vittoria di sabato nel derby di urbania per 68 83 ha regalato la fuga in vetta della classifica ma anche la ritmetica per quanto riguarda il balzo di categoria un grande risultato frutto di un percorso da schiaccia sassi fermato da una sola sconfitta in stagione percorso che ora insegue la ciliegina sulla torta della vittoria del campionato col primo posto da blindare già nell'appuntamento casalingo di sabato 25 marzo con ascoli intanto però può esultare coach stefano foglietti allenatore di una squadra ai limiti della perfezione così come esulta la società del presidente rudy baldelli e del main sponsor lorenzo pizza a pochi mesi dalla costruzione di questa fortunata partnership siamo saliti subito come primi in classifica quindi prossimo anno giocheremo in serie c e poi vediamo se ci sono qualche c'è qualche possibilità anche di fare un ulteriore salto di di livello però questo perché comunque alla mia famiglia oltre che allo sport piace anche il sociale considera che noi nel calcio 5 abbiamo 300 ragazzini che comunque 300 bambini che comunque vengono a giocare a calcio 5 che comunque vengono vestiti dall'ital service che vanno in giro con le nostre tute e nel loretto ci sono già 30 bambini 30 ragazzi che sono allenati benissimo da andrea rinolfi e quindi anche lì diciamo che il loretto basket sta diventando anche lì da sport poi passa anche al sociale e a noi questo è una grossa passione per noi cioè ci sono tanti imprenditori che hanno tanti hobby a me molte volte anche i miei clienti i miei fornitori i miei amici me lo dicono ma chi te lo fa fare cioè perché investi tanto nello sport e la risposta è perché lo sport poi diventa anche sociale perché poi quando questi 300 bambini del calcio 5 questi 30 ragazzi del basket invece di andare in giro al pomeriggio vengono a giocare da noi quello diventa sociale e con lo sport concludiamo questa nostra edizione delle telegiornale rossini news ma la nostra prima serata è di nuovo dedicata allo sport perché riparte la nostra rubrica ha come anges la prima puntata del programma dedicato agli angels pesaro e al mondo del football americano prima puntata che andrà in onda alle 21 e 20 poi l'informazione su rossini tv torna puntuale domattina in diretta alle 7 e 20 con buongiorno rossini rassegna del sabato che per l'occasione sarà condotta dal nostro antonio astuti altra diretta di altro genere quella di domenica pomeriggio 26 marzo quando alle 16 e 30 vi trasmetteremo siamo stati utili un contributo alla ricerca oncologica risultati e prospettive di una scienza che va avanti diretta che verrà effettuata dalla lamagna via arco d'augusto di fano relativa all'università degli studi di urbino in questo format realizzato dalla fondazione francesca pirozzi diretta dunque alle 16 e 30 anche nella nostra pagina facebook ed è davvero tutto per questa sera si conclude qui rossini news vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata e un buon fine settimana in compagnia dei nostri programmi grazie a tutti